ora si registrerà la conferenza ciao traders in questo video vediamo come si ragiona tutto tondo prima di prendere una decisione di trading faccio vedere questo strumento finanziario l'eurocard perché uno di quelli dove almeno ad oggi l'analisi è piuttosto semplice perché abbiamo un grafico mensile dove sembra che ci sia una ripartenza del ciclo ribassista un grafico settimanale idem con patatine grafico daily che sta uscendo col canale il mio time frame operativo è l'h1 quindi andrò di buon grado a prendere delle buone occasioni su h1 di euro canadese che devono essere delle buone occasioni a prescindere di price action con dei buoni livelli supporto resistenza e poi in ultimissima analisi andrò a vedere se ci sono i miei filtri quantitativi in ultimissimissimissima analisi ok questo per ricordare l'importanza delle precedenze del prezzo ma a prescindere da questo credo che la cosa più significativa sia avere un quadro generale della visione del prezzo per poi andare a prendere una qualsiasi decisione dice ma come guardi il mensile per tradare su un grafico orario certo il segreto qual è ovviamente lo devi guardare con la dovuta distanza perché sai questa è una candela sola dentro c'è un mondo sostanzialmente dove si sale si scende se ne fanno di tutti i colori figuriamoci poi su un grafico orario dove ci potrebbero essere dei trend che vanno in qualsiasi direzione però è importantissimo perché poi arriva la situazione dove queste cose sono un po tutte allineate e quelli sono i punti dove con poco rischio si può andare a prendere dei rischi o rendimenti decenti che poi ci consentono con un win rate anche non eccezionale di andare ad essere profittevoli sul mercato credo che il segreto della costanza dei profitti sia in questa analisi fondamentalmente perché prendere una strategia scioccola in maniera discrezionale e andare a vedere semplicemente a guarda c'è questo c'è quello c'è quell'altro entro porta inevitabilmente a degli errori perché non sempre le situazioni sono contestualizzate no se ad esempio io dico che un paio di cicli formano un trend però potrei tranquillamente essere alla fine di un ritracciamento di un time frame più grande quindi la sincronia dei vari time frame è ottima e non dobbiamo avere paura diciamo di ritardare la nostra operatività e aspettare l'occasione giusta perché se voi vi fate un calcolo dove ci sono 28 strumenti sul mercato del forex e dove a mani basse si potrebbe fare tranquillamente un paio di operazioni al mese su ciascuno strumento poi alla fine se ne fanno sempre meno ovviamente di queste operazioni ma per dire di carne al fuoco ce n'è tantissima il l'analisi vi deve portare via un sacco di un sacco di tempo perché poi diciamo che il lavoro un po del trader finisce quando si entra sul mercato molti pensano che il lavoro inizia quando si entra sul mercato in realtà c'è un grosso lavoro di decisione prima certo questa è una situazione facile per farvi vedere un po come funziona sono situazioni più complesse ricordiamoci che questo è un cross questo è un cross figlio di euro dollaro che si trova in una situazione dove sostanzialmente questa è finta l'ho disegnata io in una situazione sostanzialmente dove sul mensile può un po succedere di tutto perché ci aspettavamo in questo mese che alla rottura dei minimi potesse esserci una discesa si è preso un po più di spazio certamente la visione proponderante proponderante quella ribassista i time frame weekly e daily ce lo stanno facendo credere quindi già una price action come quella dell'11 e 10 circa potrebbe essere interessante da prendere con calma pensavo da prendere non troppo aggressivamente ma magari farlo stornare un po perché lo spazio c'è quindi il problema è capire se rimbalza oppure no perché un punto delicato è un punto bello ma delicato dove l'eventuale rottura potrebbe portare nei prossimi settimane a tutto un altro scenario si è confermata quindi è un punto abbastanza delicato questo ma interessante però che ci fa capire che un euro dollaro debole ci sta a favore dell'analisi che ci sembrava molto scontata facendola così su euro canadese un euro debole contro il canada beh allora consideriamo che dollaro canadese è all'interno di un enorme triangolo che potrebbe essere anche di continuazione ricordiamo che in caso di continuazione avremmo una una svalutazione del dollaro canadese quindi una debolezza però per il momento diciamo che è ancora molto presto per dirlo in quanto non abbiamo avuto grossi segnali qua né dal settimanale né dal daily che si è infranto sull'uno trentadue che sta tornando indietro io ho disegnato questo pattern su h1 che potrebbe essere abbastanza interessante ma è a prendere le pinze in maniera enorme perché anzi forse in ottica di soluzione di selezione delle trade neanche lo prendo in considerazione perché a prescindere che la settimana prossima vabbè lasciamo perdere però i timori che ci sia una un ritorno sotto questi punti sono abbastanza alti in un'ottica di selezione se sul dollaro canadese mi devo fare le mie due trei dal mese beh io dico che è meglio aspettare dei pattern di effettiva rottura se ci sarà sotto a questi punti o addirittura un ritorno sui minimi ma buttare qualche soldo su questi dieci punti non è del tutto sbagliato è solo che c'è un po di timore che nasce dal fatto che ancora non abbiamo le giuste conferme diciamo è un anticipo ok se invece ci dovesse essere una rottura di questi punti con un euro che rimane debole ecco che allora sì che la nostra lettura su euro cad sarebbe completa ma fino a quel momento vista in un insieme di strumenti dei dei sottostanti di euro canada quindi dei loro genitori euro dollaro e dollaro canadese è molto importante diciamo essere prudenti tutta questa prudenza in realtà poi si trasforma comunque in un numero che può essere anche corposo di operazioni perché gli strumenti sono tanti le situazioni si sviluppano è solo che bisogna avere la la forza e la pazienza di non darsi dei di fare una percentuale al giorno specialmente di operazioni anche di performance dovrebbe seguire un po il flusso del mercato poi se arriva al giorno dove c'è da farne quattro se ne fanno quattro se c'è il giorno dove non se ne fa nessuna non se ne fa nessuna questa è un po la cosa che i trader alle prime armi chiaramente decidono decidono digeriscono male sostanzialmente quindi ecco ti ho voluto dare così una piccola infarinatura di quello che stressiamo punto per punto in pfx perché mi chiedono che percentuale fanno le vostre strategie quanto si può fare quanto si può non fare che strategie avete quali sono i vostri segnali sono domande molto stupide all'occhio di un trader esperto evidentemente perché qua ragazzi si tratta di un'analisi complessa noi siamo una delle poche scuole che ti insegna a fare questo tipo di analisi perché sembra che almeno in apparenza tutti gli altri ti vogliono vendere un segnale operativo tutte le strategie sono fallaci se non contestualizzate perché nel momento in cui io avrò contestualizzato che euro canadese ha più probabilità di scendere che di salire il primo pattern interessante che io vado a tradare avrà una percentuale molto alta di successo perché ho fatto un'analisi precedente no se io scontestualizzo tutto è molto difficile riuscire più che altro essere costanti cioè si fanno delle ottime performance nel momento in cui c'è una direzionalità o comunque qualcosa di consono alla mia strategia e sono in difficoltà nel resto del tempo questo è un po il segreto la forza del trading fatto diciamo operazione operazione discrezionale e credo che sicuramente non sia eccezionalmente commerciale non è che le persone muoiono dalla voglia di fare questo tipo di analisi perché è complessa perché è facile fare errori di valutazione ma se la si impara a fare dominare si avrà veramente uno strumento che ci permetterà insieme ad altre considerazioni di essere costantemente profittevoli sul sul mercato ecco non volevo spaventarti con questa analisi volevo darti un po una panoramica di quello che c'è da vedere prima di arrivare ad una decisione di trading giuste o sbagliate che possono essere le decisioni però se ci si abitua a farle e a leggere vari time frame si arriverà sicuramente a situazioni dove se ci dovesse essere un errore di valutazione siamo anche più pronti a prendere il contropiede no mettiamo che io vado short su euro canada perché ho fretta bla 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 mi butto short il prezzo mi frega e lunedì incomincio ad avere sul devi delle chiusure rialziste no se questa situazione continua anche il giorno dopo si sta a vedere che vuole farsi una volta tutto il canale allora avrò la possibilità di fare una buona operazione stare dentro il mercato e prendermi abbondantemente quello che ho perso quindi anche la reazione di contropiede alla mia analisi nel caso mi fossi sbagliato è molto più netta perché dico ah ecco che cosa vuole fare allora ok il mercato è difficile e non è per tutti quindi chi ha voglia di studiare e di farsi un bel culo si accomodi ti lascio il link per le offerte di natale ciao e ci sentiamo ad una prossima videopillola